ciao a tutti e benvenuti a questo video introduttivo che riguarda il canale youtube che ho aperto da pochissimo tempo 10 alfred channel 10 alfred channel è come uno di quei semi che volano per aria per chissà per quanto tempo diciamo finché c'è un vento che tira un po dove vuole lui il seme resta per aria e poi un giorno si posa per terra e sparisce tra le pieghe della terra di un campo sparisce e poi diventa realtà nella terra da lui principio una vita che è materiale concreta visibile una nuova forma di vita è proprio così parlare di cinema si proprio di questo argomento tratterà questo mio canale è stato sempre nella mia mente da tanto tantissimo tempo ma l'unica pratica che operava in questo senso era tutt'al più con me stesso fin da piccolo avevo un cosiddetto mangia cassetta in camera con decine di nastri di fiabe favole più o meno celebri raccontate da voci famose e quando andavo a letto non potevo fare a meno di addormentarmi con in sottofondo la voce di una storia che veniva raccontata questo tutte le sere non importava fossero le stesse ogni volta alla fine le imparavo a memoria ma questo non penalizzava la mia esperienza immaginativa né tantomeno mi riportava alla realtà più velocemente al contrario cominciavo ad immaginare sempre più in modo chiaro come fosse quel protagonista di che colore fosse l'erba di quel prato il colore del metallo di quella spada l'odore di quel cavallo eccetera poi è entrato il cinema nella mia vita e questo grazie a mia madre che oltre a essere un'instancabile lettrice era anche un'appassionata di cinema questo si traduceva in casa in molte librerie piene di libri e molte altre librerie piene di cassette vhs e quindi quando non giocavamo io e mio fratello potevamo mettere lo stesso film ogni giorno almeno una volta film come super fantozzi award e il destino del mondo gunis nuovo cinema paradiso ben ur 007 zona pericolo e molti altri continuamente continuamente e poi cresci e comincia a notare quell'attore si quell'attore che manco sai come si chiama ma ha fatto anche quel film faceva il postino in una scena di tre secondi netti e faceva anche l'amico del protagonista in quell'altro film e guarda poi dopo anni fa il nonno in questo film anche se è invecchiato si vede che è lui poi continui con le serie tv le colonne sonore le interpretazioni di mullon land drive e razor head the cube all'improvviso l'estate scorsa e tanti altri sui forum per capire quale sia il senso del film e alla fine finisci per notare cose come la colonna sonora di scoprendo forest di gus valsant che ha un pezzo della stessa colonna sonora di la scuola di lucchetti o anche che hateful aid non è che un enorme omaggio di tarantino alla cosa di carpenter e quanto sia raro uno studio dei volti così incredibile come quello del nome della rosa di jean jacquannod e di quanto la fotografia di parasite sia stata inspiegabilmente sottovalutata a pro di 1917 all'ultima premiazione degli oscar e con chi ne parli di tutto questo con tuo fratello col tuo amico che sta in australia e poi forse proprio qui che la terra ha chiamato il seme si è posato è stato un po sotto ed adesso vediamo che viene su una cosa vorrei e mi impegnerò in questo voglio che cresca questo seme così com'è come è sempre stato senza volere essere nessun altro il cinema sarà il centro di questo angolo non parlerò di classifiche l'unica cosa che voglio è condividere e mettere a conoscenza film e punti di vista su film che magari qualcuno non conosce e magari ricevere altrettanto da voi condividere a 360 gradi questa passione in allegria e tranquillità chissà poi che diventerà questo spazio quanto durerà chi lo sa per adesso lo faccio crescere spero anche che lo facciate crescere voi col vostro interesse non mi piace farmi vedere ragazzi quindi almeno per ora sentirete solo la mia voce posso assicurarvi che basta e avanza grazie ad aver varcato questa soglia a presto ragazzi grazie grazie